Giovedì 15 ottobre ci troviamo a Napoli per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editori in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Napoli. Si parla delle sfide dell'edilizia del futuro, tanti temi trattati tra cui le smart city e la sostenibilità ma anche un modo per capire di più con le aziende presenti quali sono i prodotti più innovativi presenti sul mercato. Allora vediamo questo servizio che abbiamo realizzato. Come novità hanno presentato il Closer che è un soffiore doccia innovativo in quanto si muove a 360 gradi come una luce, una lampada che viene applicata al muro e ha tutte le possibilità di movimento a 360 gradi. Quindi si può usare, si può abbassare e non hai più bisogno di una docetta alternativa per lavarti il corpo. Quindi se vuoi fare una doccia senza bagnare i capelli puoi direzionare il getto come vuoi, all'altezza che vuoi. E' stato riconosciuto il Design Plus a Francoforte durante gli SH, è stato presentato al Salone di Bologna durante il day off che è un'installazione appunto premiata a Cersaie e sta avendo parecchi riconoscimenti perché è unico come tipo di soffione doccia. Sono utili secondo te a questi momenti? Sì assolutamente sì perché i progettisti non conoscevano o l'avevano soltanto visto questo prodotto e quindi hanno potuto capire l'utilizzo e come installarlo nei loro progetti. Grazie a tutti!